Una mozione che impegna il sindaco di Nuoro, Andrea Sodio, e la giunta comunale a fare tutto ciò che serve per la realizzazione di un impianto per l'irrigazione delle campagne a valle del depuratore di Suttuvu. L'iniziativa del consigliere comunale Pierluigi Sayu di Uniti per Nuoro, che ha fatto proprie le istanze di un comitato di cittadini che da anni si batte affinché quell'opera venga realizzata. Sayu ricorda che l'impianto di depurazione di Suttuvu è tra i più moderni ed efficienti in Sardegna, ma le acque trattate invece di essere impiegate per irrigare 300 ettari di campagne dall'agronorese finiscono nel fiume Cedrino. Il progetto c'è già anche se è vecchio di 15 anni, si legge nella nota di Sayu. La prima richiesta di realizzazione risale al 2001. Servirebbe quindi un aggiornamento. Il costo per la sua realizzazione, vale a dire di un depuratore che consenta di utilizzare per l'irrigazione delle acque del Suttuvu, sarebbe di 3 milioni e mezzo di euro, spiega il consigliere comunale, che ricostruisce anche la genesi del progetto, che nel 2011 venne bocciato perché mancava il collaudo del depuratore, arrivato poi nel 2013. Eppure da allora non è cambiato nulla, prosegue la nota del consigliere comunale. La quantità d'acqua che potrebbe essere utilizzata per irrigare le campagne anuresi è stata stimata dal comitato in 3 milioni di metri cubi all'anno. L'opera, che prevede anche la realizzazione di due vasconi, avrebbe anche una funzione antincendio. Questo è stato un anno particolarmente siccitoso. La mancanza di un impianto come quello si è purtroppo fatta sentire, prosegue Sayu, che sottolinea come il comune di Nuoro in questi anni non si sia dimostrato attento alle esigenze delle campagne. Ma la richiesta di intervento avanzata da tanti cittadini deve essere ascoltata e mi aspetto quindi, conclude Sayu, che tutte le forze politiche presenti in consiglio, quando finalmente riprenderemo a riunirci, trovino il modo di sostenere insieme a me questo progetto.